Il 9 luglio, in diretta dalla Sala Playel del Museo Nazionale Rossini, incontreremo in collegamento, in diretta da Kabul, un gruppo di musiciste che risiedono presso l'Orfanotrofio Afceco, che sono una rete di orfanotrofi nel Medio Oriente che danno ai ragazzi la possibilità di studiare musica, pittura e di fare attività sportive intesi come progetti di vita. Ci collegheremo e condivideremo un concerto con alcuni membri dell'Orchestra Olimpia, un trio di fiati e un duo pianistico. Ci saranno alcune ragazze dall'Orfanotrofio che ci faranno ascoltare sia la nostra amata musica occidentale, i brani di Chopin, sia dei brani tradizionali afghani. Tutto questo nel segno di un'amicizia, di una collaborazione che l'Orchestra Olimpia intende portare avanti, sia con l'Orfanotrofio, sia con l'Istituto Nazionale Musicale Afgano, con l'impegno di sostenere il diritto allo studio di queste ragazze. Inoltre, l'8 luglio alle 10.30 alla Biblioteca San Giovanni ci sarà l'inaugurazione di una mostra fotografica Afghanistan per dove? A cura di Carla Dazzi, un attivista del CIS da Centro Italiano di Sostegno alle Donne Afghane. Sono fotografie letteralmente rubate, scattate in Afghanistan dal 2002 ad oggi, che raccontano un po' la vita di tutti i giorni, delle donne, dei bambini, anche degli uomini. Questo è un momento di arricchimento insieme a quello che poi è il concerto. E con il giorno del concerto andremo insieme alla Fondazione Vanda di Ferdinando a formalizzare un piccolo aiuto economico per l'Orfanotrofio per sostenere le attività musicali come gesto simbolico di un segno di amicizia e di volontà di collaborare per il futuro. Gli appuntamenti che ci vedranno impegnati la prossima settimana sono appuntamenti importanti e che per noi coincidono con l'anniversario della creazione della Fondazione Vanda di Ferdinando. In particolare il concerto che si svolgerà in collegamento con Kabul e che ci permette di unire musica insieme allo sport della Maratona delle Dolomiti, insieme ai concetti di solidarietà per festeggiare in maniera nuova l'anniversario di creazione della Fondazione Vanda di Ferdinando. Per noi come Consiglio di Amministrazione la memoria è un elemento molto importante e cerchiamo di rendere omaggio a Renato di Ferdinando che ha creato appunto la Fondazione come sapete in onore della moglie Vanda ed è proprio lui che ha visto come importanza fondamentale le attività a favore dei giovani e noi sentiamo la responsabilità di rendere omaggio alla memoria della famiglia di Ferdinando e quindi ci impegniamo a favore delle giovani generazioni facendo in modo che le bambine e i bambini di ogni parte del mondo possano ribadire il diritto a immaginare un futuro libero e dignitoso per tutti e questa è una buona occasione.